Buongiorno, siamo in clinica Roma, clinica Quisisana, è venuto a trovarci il professor Perito da Miami, abbiamo effettuato degli impianti di protesi al pene, abbiamo iniziato questo nuovo percorso di collaborazione, il professor Perito ha deciso di venire in Italia per operare pazienti che arrivano da tutta Europa e anche dall'est Europa una volta o due volte al mese venire in Italia per effettuare delle procedure chirurgiche ovviamente insieme a noi, siamo il riferimento europeo per la tecnica mini-invasiva messa appunto dal professor Perito, è un grande piacere essere qui con lui e gli rivolgiamo la parola. Brio Antonini, mio brother di Italia, e Dr. Bernardo Cisneros, mio brother di mexico e lo che credo tra i tre avessi che abbiamo offerto ci sono tre centri di excellence dove, se sei da una città della città della città della città della città della città dell'Europa o tu è da Canada o Centro e Sud America, noi possiamo avere tutte le finestre facili e le finestre docze in tutto il mondo. Abbiamo fatto circa sei casi queste le pasto 3 giorni, alcuni molto complessi, alcuni scambi ducati, ma quando hai una facili, una dedicata team e la doccia di doccia, Especially when you've got two of them for the price of one. Ariel, thank you so much, my brother, for my... Okay. All right. Thank you very much.